ma buonasera ben arrivati a baccherito la sagra della castagna 2017 io se a qualcuno gli interessa faccio anche matrimoni sono anche diciamo a battesimi a compleanni non c'è problemi allora ragazzi ora devo assonare una canzone che ci si è sentito da bucaioli deviata a voi deviata a tutti voi bucaioli e l'ho scritta una volta e l'obbligato va bene? allora si cantano insieme e poi G8 si va a trovare a cercafunghi andiamo io a baccharello ci sono stato però io a piglia l'acqua e un cibo se si passate a curia non lo raiosisto ma è cura giova non gli erano Badaji badara la zuma ma la maya la di zuma Badaji badara la zuma ma la maya la di zuma Badaji badara Badaji badara la cibo 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 Grazie.